buonasera mi porto avanti su una cosa sapete quale sarà la partita più difficile delle prossime della juve la più difficile juventus salernitana e così sarà la più difficile perché perché la juve arriverà dall'impegno con via real avete visto quel successo oggi alla roma che è stata costretta a pareggiare al 94esimo su calcio di rigore le difficoltà che ha avuto l'atalanta che non ha superato in casa il genoa perché dopo le partite di coppa è quasi normale avere un calo fisico psicofisico concentrazione e quant'altro quindi io mi porto avanti e vi dico che la partita con la salernitana sarà dura sarà dura perché è normale perché passi da via real alla salernitana passi dalla musichetta al campionato passi da una partita nella quale devi dare fondo a tutte le tue energie perché l'uno a uno è sicuramente un buon risultato però però si parta da pari ok e quindi diciamo metti in campo non solo le gambe ma anche la testa lo stress eccetera e poi hai la salernitana non hai l'inter non hai l'inter dopo non hai il milan non hai il napoli non hai la roma capite no ecco perché ecco perché diventa fondamentale in questo momento il recupero di alcuni giocatori diventa fondamentale proprio perché puoi alternare puoi avere contro la salernitana anche gente mentalmente carica non scarica a parte che c'è il tempo per recuperare anche dal punto di vista mentale però è difficile è più complicato no si può fare ma magari ci metti un po di più ai giovedì venerdì e sabato no però ecco è importantissimo in quest'ottica dunque benissimo per quanto riguarda il rientro di bernardeschi siamo lì lì su chiellini e divala che questa mattina nella seduta che per gli altri è stata di scarico per chi aveva giocato e per chi non aveva giocato è stata di vero e proprio allenamento hanno partecipato in parte con il gruppo voi sapete bene che l'imparte con il gruppo dovrebbe essere il preludio ad una seduta almeno interamente con il gruppo prima della partita che comporterebbe poi la convocazione quindi essere disponibili quindi chiellini dovrebbe potrebbe diventare disponibile di bala potrebbe diventare disponibile ogni volta che dici di bala potrebbe diventare disponibile per vedere adesso proprio il problema quale ragazzi che proprio intanto che parli di bala ci pensi ci pensi anche di chiellini per carità perché siamo abituati in questi ultimi anni non solo due anni come di bala ma da più anni no hai problemi al sole o eccetera 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 però con di bala la senti più forse perché l'attaccante ti dà più enfasi nel ricordare le cose è immediaticamente più risalto no e quando pensi a di bala che sta lavorando pazientemente con il gruppo e potrebbe venire convocato e potrebbe anche giocare un pezzo di prego al Villareal scatta ormai clic ce la farà e se ce la farà per quanto tempo ce la farà per quante partite ce la farà se è una cosa che tra l'altro prescinde dal valore intrinseco del giocatore che è fortissimo ma se è una cosa che viene automaticamente in testa a un pirla come me e viene automaticamente immagino in testa a molti di voi che non definisco pirla naturalmente ci mancherebbe il pirla me lo prendo io ok ma volete che non venga in mente anche alla società Juventus è normale che viene in mente anche alla società Juventus è normale all'allenatore che lo sta allenando e che dice come ha detto gestamente ieri Allegri lo stiamo aspettando perché abbiamo bisogno di lui c'è bisogno di un giocatore come Di Bala per il suo estro per la sua capacità di inventiva per la sua voglia di chiudere bene la stagione che potrebbe essere l'ultima con la mano della Juve e poi per un discorso di ricambi perché ieri ha riposato Ulavic e giocherà contro il Villareal ma Morata sta tirando abbastanza la carretta eh per carità adesso ha il beneficio mentale oltretutto dei gol, dei tre gol realizzati in ultime due partite quindi in questi casi qua la fatica la senti meno ma poi alla lunga la senti capite? e quindi è normale che è importante questo ritorno si spera di Paolo Di Bala tra i convocabili e quindi tra i disponibili e quindi tra coloro che possono già giocare magari un pezzetto di partita proprio per dare fiato e ricambio in vista della partita con la Salernitana adesso io batto il chiodo su questa partita qua più che su quella col Villareal più che su quella col Villareal diventa fondamentale anche perché ragazzi come vedete Allegri non si sbaglia a volte nel dire consolidiamo il quarto posto perché è difficile che gli altri perdano terreno ora io mentre vi sto parlando Torino-Inter è sullo 0-0 anche perché ha appena iniziato più o meno da dieci minuti, un quarto d'ora ma il Milan ovviamente ha vinto ieri il Napoli ha vinto oggi a Verona su un campo difficilissimo eh su un campo difficilissimo doppietta di Ozymen quindi giocatore che ha ritrovato piena fiducia e confidenza partita delicatissima perché il Napoli veniva dalla sconfitta in casa col Milan e quindi questa era una reazione l'hanno definita vittoria sporca non l'ho vista tutta l'hanno definita vittoria sporca non mi interessa le vittorie sono vittorie sporche, pulite hai giocato bene, male non me ne frega niente le vittorie sono vittorie quando perde o vince meglio una partita sporca la Juve va bene la vince sporca il Milan va bene l'importante è che una squadra la vinca e il Napoli l'ha vinta la partita il Napoli l'ha vinta e quindi la distanza dal Napoli è tornata ad essere quattro punti poi la Juve ha beneficiato sicuramente dei pareggi di Atalanta e Roma perché comunque la Roma era più o meno a livello dell'Atalanta e si spera l'Atalanta anche se non appartiene più da giocare perché non doveva sperare la Roma di riagganciare la zona Champions così come può far filotto la Juve possono far filotto anche le altre quindi diciamo che la Juve ha consolidato ulteriormente proprio quarto posto nei confronti di Atalanta e Roma però là davanti vanno là davanti vanno bisogna tenere assolutamente conto di questo è un dato di fatto quindi la Juve deve rimanere comunque lì agganciata finalmente che Gasperini ha detto sarà una lotta tra noi e la Juve fino a maggio certo non poteva dire non ci credo più però è anche doveroso che ci crede se ci crede l'Atalanta perché non deve crederci la Juve di arrivare tra le prime quattro di arrivare tra le prime quattro è normale questo naturalmente domani avremo modo di valutare ulteriormente qual è la situazione legata a Chiellini e Dybala poi pian piano dovrebbe riprendere anche Bonucci pian piano riprendere anche Zaccaria diciamo che se la Juve scollina col Villareal e insomma ritrova diversi giocatori a parte ovviamente quelli per cui la stagione è finita come Chiesa e McKennie per loro purtroppo non c'è più niente da fare e se ne riparlerà col prossimo Raduno, Ritiro e Steve e compagnie bella credo che possiamo chiuderla qua ragazzi sì allora ho letto su OneFootball che ci sono altri giocatori nel mirino della Juve si parla già di nuovo di Emerson Palmiere di Giorginio lo dovevo dire, ve lo riferisco si parla da quanto tempo si parla di Emerson Palmiere di Giorginio? sembra una scadenza no? la scadenza annuale la scadenza annuale sono almeno tre anni che si parla di Emerson Palmiere di Giorginio che sono sempre là anche perché adesso non si possono muovere però attenzione c'è questa questione qua del Chelsea ad esempio che è abbastanza tosta ecco lì è una situazione da seguire perché poi è ovvio che se dovessero questi giocatori svincolarsi a fine stagione beh allora diventerebbero delle opportunità importanti ma per tutti non solo per la Juventus quindi si scatenerebbero delle vere e proprie guerre per accapararsi certi giocatori ma ne parleremo a tempo devito iscrivetevi al canale e noi naturalmente ci vediamo domani ok? sempre con il doppio video naturalmente ciao 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 ciao